Un punto dei lavori dovuto alla città per quanto riguarda il parco urbano alla luce dei grossi ritardi che ci sono stati in questi mesi, anche perché ci eravamo presi un impegno per l'estate dovevamo riconsegnare il cantiere alla città, purtroppo c'è una ditta problematica che stiamo affrontando con grande serietà in maniera puntuale e facendo anche degli ordini di servizio e incontrandola spesso, proprio ieri abbiamo avuto un incontro anche col sindaco e tutti i tecnici per dare un'ultima destinazione. L'ultima destinazione è fine anno. Entro fine anno la ditta dovrà reintervenire sulla pavimentazione di tratti di pista ciclabile che in questo momento, poiché sono fatti di uno stabilizzato naturale per non avere un forte impatto sull'ambiente, si sono leggermente deteriorati. Onde evitare che si sgretola e non ci sia una buona manutenzione nel tempo li facciamo rifare. Manca da realizzare la terza area che è quella proprio degli arredi della piattaforma che si interseca con le due piste ciclabili e diventerà l'area appunto della socialità dove le persone si potranno sostare, ma nello stesso tempo potranno anche creare dei momenti di amicizia. E tutta la messa a dimora del verde, che questa invece partirà da ottobre, ci sarà anche un rifornimento di terra vegetale proprio a rinforzo di tutto questo, di questa piantumazione. L'impianto di illuminazione e tutti i sottoservizi sono già allacciati, resta solo da sostituire un palo della luce che è stato vandalizzato in questo tempo, dopodiché entro fine anno questo cantiere ci verrà restituito. Una buona notizia invece che questa settimana sono partiti i lavori sulla casa del parco, c'è stato l'allestimento dell'area di cantiere, successivamente verrà smantellato il tetto e con il tetto tutta un po' la parte interna, mentre lo scatolame rimarrà il medesimo. Essendo un intervento che ha l'obiettivo di lavorare sulla parte sismica, lo scatolame è adeguato, invece bisogna ricreare una struttura interna e rifare il tetto, cosa che succederà nei prossimi tempi, oltre che l'importante lavoro di efficientamento che avrà la struttura, ma questo nella fase ultima, proprio perché è un lavoro che si compierà nel tempo di un anno. Quindi per la prossima estate lo potremo utilizzare al meglio con quel profilo appunto accogliente, didattico, culturale, associativo, di riferimento al quartiere, non solo, con cui è stato lavorato, pensato e realizzato. L'ultimo cantiere che è in piedi è la Pantrac, che anche questo questa settimana dopo il periodo estivo è ripartito. La Pantrac ricordiamo che in questo momento stiamo facendo dei lavori sulle sottofondazioni, proprio la predisposizione degli allacci dell'acqua, della luce, delle fogne, e per far sì che una volta fatto questo possiamo poi parallelamente iniziare a lavorare su una delle parti per stabilizzare il terreno e cominciare a creare quel saliscendi che è tipico della caratterizzazione di questa pista che appunto poi sarà a disposizione della città. Sono convinta che per la prossima estate questo parco avrà una nuova vitalità, vitalità perché potrà essere vissuto nella sua pienezza, in un'ottica di raggiungimento, nel senso che verrà collegato alla città attraverso la pista ciclabile che partirà dal centro natatorio e poi proseguirà su via Papieria. Ma ci sarà un'altra infrastruttura che naturalmente coinciderà con questa accessibilità, che è proprio la ciclovia del Metauro, che appunto collegherà il parco urbano con la zona di Sant'Orso fino a Bellocchi.